L'ambulatorio dello sportivo nasce da un'idea del nostro reparto, di quello di seguire tutti quei pazienti che fanno parte di un'associazione sportiva e che hanno subito un trauma, un accesso rapido alla possibilità di avere delle cure da un punto di vista ortopedico, quindi una diagnosi precoce sul tipo di trauma che hanno riportato, la possibilità di fare degli esami di primo e di secondo livello grazie alla radiologia di Borgotaro che ci supporta in questo progetto e quindi di iniziare un trattamento che può essere soltanto medico ma anche chirurgico per cercare di risolvere la problematica legata al trauma e di permettere a questi atleti di rientrare in campo il prima possibile. Abbiamo istituito quindi due giornate lunedì e il venerdì in cui diamo la possibilità di avere accesso a due visite, quindi a quattro visite settimanali proprio per questi pazienti in modo tale da permettergli di far diagnosi e di accedere a delle cure rapide per, come ho detto prima, rientrare il prima possibile in campo e ritornare all'attività sportiva.